Ancora Brodlach, aggredito dall'Olio, gran giocata del Croato. Bordlach, con personalità, nasconde il pallone a trovare. Grazie per la visione! Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker vecchio Stappo. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Il porto sicuro di ogni pallone per i giocatori del Picerno, ne tocca tantissimi il croato playmaker. Grazie a tutti